Per quale motivo la polizia locale di Pavia ha deciso di avvalersi dei taser e come funziona questo strumento? Ci siamo uniti dei taser perché è uno strumento che serve a tutela degli operatori, a tutela dei cittadini. L'utilizzo della pistola e l'estrema razio. Tra la pistola e il niente c'è il taser che è considerato un'arma, ma non è un'arma mortale, salvo qualche caso eccezionale. Non si ha conoscenza di casi di decesso, almeno in Italia, per l'utilizzo del taser. Per la sperimentazione che è stata fatta dalle forze di polizia, ad ordinamento nazionale, quindi carabinieri, polizia di Stato e guardie di finanza e da alcuni corpi di polizia locale che hanno iniziato prima di noi. Quindi se non erro Venezia, Pordenone, Venezia e Pordenone sono certo. Sappiamo che ha un grandissimo effetto deterrente e che riesce a risolvere situazioni problematiche e difficilmente risolvibili in altro modo. Quindi per questo si è deciso di optare per questo strumento. Considerate che lo strumento in abbinamento con la bodycam dà la massima garanzia di un corretto utilizzo da parte del personale. Quindi la bodycam è a tutela del cittadino ma anche a tutela dell'operatore.